Le circostanze sono molto importanti, quindi prenderò breve alcune notizie e poi potrebbero rimettere la differenziazione. Che tempi si prevedono? I tempi giusti della giustizia, quindi tutto il tempo che serve. Mi spesi la signora indagata? Sì, attualmente sì. Omicidio o carico? Non ci serve, ti mando tu. A me però come lo manda? Non mi conosce, sono Chiara Carinini dell'Ansa, dovrebbe forse lasciarle lì e c'è lì l'acqua. Ma il comunicato quando ci va a qualcosa di più preciso? Ma in serata, in serata. In serata come vuol dire? Sera. Siamo già in serata. No, dopo le 7, dopo le 8, dopo le 9. Ecco, la pressa. Ma ha confessato o no? No. Niente, ma... Scusi, è il padre del bambino? Non ha confessato o non può parlare? No, no, è un posto impergatorio, vi direi come se lo stiamo. Sì, sarebbe tutto. No, 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 certo, ma soltanto... Beh, comunque è indagata per omicidio o no? È indagata. È indagata. Ci deve ancora definire quando... ...con fede, creare, lavorare. Grazie. Grazie.